Nella vita quotidiana ognuno di noi deve imparare ad affrontare rischi e pericoli. Imparare a conoscerli, prevederli, prevenirli è fondamentale e noi ne vogliamo fare una professione, il tecnico della prevenzione. Ci occupiamo di sicurezza, sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro e mettiamo la nostra competenza al servizio degli altri al fine di offrirgli un ambiente più sicuro e vivibile. Aiutiamo a diminuire i rischi e l'impatto che essi hanno sia dal punto di vista chimico, fisico e biologico. Come? Il tecnico della prevenzione misura gli inquinanti presenti nell'acqua, nell'aria, nei cibi e negli ambienti di lavoro. Si confronta con altre professionalità per valutarne l'impatto sulla salute umana. Studia e pianifica misure di prevenzione e protezione utilizzando il metodo della risk analysis. Valutare, prevenire e ridurre l'impatto dei diversi fattori di rischio è il nostro mestiere, dinamico ed interessante. La nostra professione richiede capacità di entrare nel concreto dei problemi e capacità di aggiornamento continuo. Il tecnico della prevenzione misura la dimensione del rischio, ne valuta l'impatto sulla salute e interviene per ridurre il rischio quando è presente e comunica a tutti gli interessati la misura della grandezza di questo rischio e valuta l'efficacia delle misure di prevenzione che vengono utilizzate per tutelare la salute di tutti e contribuisce a migliorarne l'efficacia. Operiamo sia nelle aziende produttive, come industrie e servizi, e nelle aziende sanitarie, come addette al controllo in materia di sicurezza. Credi che prevenire i problemi sia una buona idea? Ti piacerebbe concretamente operare per avere un ambiente, un cibo o un luogo di lavoro migliore? Oppure sei curioso, ti interessa di capire quali sono le situazioni che ogni giorno sono in completa evoluzione? Bene, allora hai trovato il tuo corso di laurea e ti devi iscrivere assolutamente a tecniche della prevenzione. Ti aspettiamo! Ciao!